e suo padre stanno pescando. Papà, odio pescare. Perché? Perché è noioso e fa caldo e non pesco mai niente. Sai che pescavo con tuo nonno ogni estate? Veramente? Era una persona molto diversa mentre pescava. Parlava molto. Ma lui non parlava quasi mai. Di cosa parlava? Di molte cose. Per esempio, di quando viveva in Svizzera. Sai che era un dottore a Zurigo, ma la sua passione era cantare. Cantare? Incredibile. Sì, sì, è vero. Papà, vuoi pescare per parlare con me più spesso? Sì. Adesso vivi in un'altra città. Non abbiamo bisogno di pescare insieme per parlare. Ah, perfetto. Anche io odio pescare. È così noioso. Passione. Noioso. Quasi. Città. Fa caldo.